Bene, buongiorno, qui Manuela Negro da Trading Room Roma insieme a Teletrade per il consueto appuntamento di lettura dei mercati valutari. Intanto chiedo conferma a tutti voi se vedete il mio monitor e se ci sono problemi di audio. Bene, grazie Luca, Vincenzo, Roberto, un altro Vincenzo, tutti quanti, Cristian, Metodi, perfetto, grazie a tutti, vi vedo tutti ben attenti, ben pimpanti questa mattina, vedo anche dei nomi nuovi, Antonio, Mario, bene, grazie per la vostra partecipazione. Dunque, io partirei subito con i commenti delle notizie macroeconomiche di ieri, che poi appunto molti hanno anche definito non notizie, alla fine eravamo tutti in attesa di capire, pendavamo dalle labbra dei grandi delle banche centrali, ieri avevamo le conferenze da parte di Mario Draghi, presidente della BCE e Janet Yellen, presidente della Federal Reserve statunitense e tutti eravamo lì ad aspettare magari delle notizie, delle considerazioni che ci avrebbero potuto far capire, interpretare il comportamento dei grandi, delle politiche monetarie in caso di un'eventuale uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Il loro atteggiamento è stato sempre molto cauto, nulla di nuovo riguardo ai loro commenti, alle loro considerazioni. Scendiamo in particolare nel dettaglio, il presidente Draghi, che ieri è intervenuto davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo, ha ribadito che un leggero ottimismo in merito alla ripresa della crescita economica dell'Eurozona, che stando alle sue parole ormai sentite e risentite, prosegue con un ritmo moderato e stabile. Le dinamiche di inflazione rimangono ancora sotto tono, siamo ancora lontani dal famoso obiettivo del 2% e ancora ha ribadito che lui continuerà a monitorare l'evoluzione sulle prospettive per la stabilità dei prezzi e farà tutto ciò che è nel suo mandato per intervenire. Nulla di nuovo dunque in merito alle considerazioni fatte, ha aggiunto che permangono ancora dei rischi al ribasso, cioè dei rischi di peggioramento della situazione economica europea, che sono significativi e questi dipendono dai problemi geopolitici, ma anche dalla fragilità dell'economia globale, dell'economia in generale. Ha dichiarato che è difficile, ad una domanda che gli è stata posta in merito all'eventuale scenario Brexit, ha dichiarato che è difficile prevedere l'impatto che il voto britannico avrà sui mercati e l'impatto che tra l'altro anche la dimensione di questo impatto, impatto che si verificherà, si registrerà soltanto sui mercati europei, ma sui mercati globali. Lui ha dichiarato che ha fatto tutta una preparazione necessaria per poter intervenire, qualora ha preparato un piano di emergenza che è già sul suo tavolo, in maniera tale quindi delle misure per poter intervenire nel caso si dovesse verificare una nuova crisi dovuta all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, nuova crisi alla quale l'area Euro in particolare sarebbe impreparata. Piano di emergenza che non è stato però specificato, quindi non ha fornito i dettagli delle eventuali misure che la Banca Centrale intende prendere. Ha dato alcune indicazioni in merito all'inizio del programma TLTRO2 che inizierà tra l'altro oggi, con il quale si aspetta che anche le piccole e le medie imprese siano poi in grado di accedere magari a dei finanziamenti ad un tasso più agevolato per favorire gli investimenti che rimangono ancora anche questi sotto tono nella zona, nell'Eurozona. Siamo ad un livello inferiore del 10% rispetto ai livelli pre-crisi, ma comunque anche quel livello era basso, quindi è necessario un intervento coordinato da parte dei Paesi dell'Unione Europea, finalizzato ad incentivare appunto le spese infrastrutturali contenendo invece le spese correnti, cosa che ancora non è stata messa in pratica dalla maggior parte dei Paesi appartenenti all'Unione Europea. Quindi su questi piani di emergenza, tra l'altro che non sono nemmeno nominati dal Presidente Yellen invece che è intervenuta di fronte al Senato, davanti alla Commissione bancaria del Senato, la Yellen nella conferenza di ieri ha ribadito che bisogna procedere ancora con cautela, che i tassi rimarranno bassi per un certo periodo, per un lungo periodo di tempo anche se ciò non toglie che rimane necessario, almeno stando all'outlook economico attuale sul quale si è espressa in maniera favorevole, in maniera ottimista, quindi l'outlook che appare complessivamente positivo al di là di quelle piccole incertezze che sono emerse sul fronte del mercato del lavoro, che abbiamo però ampiamente spiegato, infatti non c'è nulla di nuovo rispetto alla conferenza precedente, quindi questa visione economica attuale rende necessario un aumento comunque dei tassi, graduale, graduale sì, ma comunque un aumento anche perché il Presidente Janet Yellen è sempre stato contrario al perdurare di una politica monetaria eccessivamente espansiva, lei è convinta che i tassi troppo bassi creino instabilità finanziaria nel lungo periodo, quindi sono comunque da tenere sotto controllo, tra l'altro poi nel caso di un'eventuale crisi, un'eventuale crisi anche futura, le banche centrali non avrebbero a disposizione delle ulteriori munizioni da sparare, perché ormai i tassi sarebbero già troppo bassi e quindi è necessario che ci sia un graduale aumento. Allora in merito a queste manovre, a queste politiche, questi piani di emergenza si sono espressi alcuni, sono stati pubblicati alcuni articoli, in modo particolare quello che ritengo più interessante è quello pubblicato dal quotidiano economico giapponese Nikkei, che scrive che le autorità monetarie principali, quelli degli Stati Uniti, quindi dell'area Euro, del Giappone e del Canada, si siano incontrati nei giorni scorsi per studiare una modalità di azione congiunta e quindi per concertare delle misure da adottare sui mercati qualora dovesse prevalere la fazione degli euroscettici sul referendum. Queste misure dovrebbero cercare di evitare delle condizioni di illiquidità che si potrebbero realizzare sul mercato, quindi questa illiquidità dovrebbe essere risolta attraverso una struttura di operazioni che è molto simile a quella che è stata applicata durante la crisi finanziaria del 2008, si tratta infatti di operazioni di swap, le cosiddette currency swap, attraverso le quali le banche centrali, in modo particolare la BCE, quindi la Banca del Giappone e la Banca del Canada, possono rifornirsi di dollari presso la Federal Reserve americana. Tra l'altro poi sono state anche varate, in modo particolare dalla BCE, delle misure, delle strategie di emergenza rivolte in modo particolare a quei paesi che hanno un elevato debito pubblico, come per esempio l'Italia. Però nessuna indiscrezione al momento è emersa in maniera per fornire dei dettagli particolari. Comunque è sicuro che le banche centrali non staranno a guardare lo scossone che si potrà verificare sui mercati e che porterà addirittura ad una svalutazione, qualora dovessero prevalere appunto gli euroscettici, una svalutazione della sterlina di un 20-30%. Si ritiene che il cambio, il tasso di cambio sterlina-dollaro possa aggiungere ad 1,15%, quindi comunque saranno necessarie delle interventi sul mercato valutario abbastanza cospicui e quindi si prevedono delle oscillazioni forti sui mercati. Per questo che io ancora e noi ancora di Trading Room continuiamo a ribadire la necessità di non implementare delle operazioni di multi-day, quindi di lungo periodo, in questa prima fase. Vi consigliamo di rimandare le decisioni alla fine del semestre, quindi alla fine di giugno. Tra l'altro noi organizzeremo insieme a Teletrade un appuntamento che noi chiamiamo la rosa dei venti, di aggiornamento di medio periodo, durante il quale daremo delle indicazioni operative, ma non soltanto di medio periodo, non soltanto sui mercati valutari, ma anche sul mercato azionario e anche su delle materie prime. Quindi poi vi inviterò, comunque vi farò avere l'invito o comunque ci sarà pubblicizzato l'evento anche sul sito di Teletrade. Mi soffermo su un'unica ultima riflessione che è quella dei sondaggi, i sondaggi ormai sul referendum si alternano in continuazione, meno male che siamo ormai alla vigilia del referendum, quindi ormai i giochi in buona parte sono stati fatti. Il sondaggio ultimo che è stato pubblicato ha evidenziato che in realtà non esiste, la forbice non è così ampia tra la fazione degli euroscettici e quelli che invece votano per rimanere all'interno dell'Unione Europea. Parliamo di un 44% di coloro che sono a favore di lasciare l'Unione Europea a fronte di un 45% di chi intende rimanere, la restante parte sono ancora i cosiddetti indecisi o magari quelli che non si presenteranno proprio al voto. Quindi questa forbice così stretta ha scosso i mercati perché si riteneva che invece l'evento che si è realizzato drammatico che si è dell'omicidio del parlamentare Joe Cox, avesse in realtà fatto prevalere un atteggiamento più conservativo e quindi più a favore di un'Unione Europea proprio per risolvere determinati problemi, per evitare determinati comportamenti estremisti. In realtà così non è e questo ha determinato delle forti oscillazioni sul mercato valutario, in modo particolare ovviamente in relazione ai cross che scambiano con la sterlina. Diamo uno sguardo all'agenda macroeconomica di oggi, la mattinata è abbastanza tranquilla, nel pomeriggio avremo una serie di dati, in modo particolare abbiamo solo l'indice delle aspettative ZEV per la Svizzera alle 11, che credo sia stato già appena pubblicato, insomma forse mancano pochi minuti. Benissimo, poi avremo alle 14.30 le vendite al dettaglio per il Canada e poi una serie di dati importanti relativi al mercato immobiliare statunitense. Alle 15 l'indice dei prezzi delle abitazioni e le vendite delle case esistenti, sono dei dati da monitorare perché insomma si discuse molto riguardo alla possibilità che ci sia negli Stati Uniti la cosiddetta bolla immobiliare che potrebbe innescare una nuova crisi. Inoltre alle 16 dato da monitorare l'indice di fiducia dei consumatori per l'Eurozona e alle 16.30 per chi opera con il petrolio o sui cross che sono collegati all'andamento del petrolio, in modo particolare il dollaro canadese, valutiamo anche l'andamento delle scorte del petrolio. Bene, andiamo a dare un'occhiata ai segnali di ieri, l'operazione Audi CAD che avevamo segnalato è andata a target con un profit di 30 pips, Audi USD invece l'ordine non l'ha toccato, non è entrato a 0,7481, sull'Euro dollaro invece siamo andati in stop loss di 40 pips e sul dollaro neozelandese, un segnale che avevamo dato alle 14, anche qui l'entry order non è stato toccato. Stamattina ho individuato due ordini, sul dollaro canadese sono già in posizione, sono entrata a 1,2792 con uno stop a 1,2832 e un target a 1,2752, target stretto anche perché sul dollaro canadese nel pomeriggio ci saranno i dati e quindi dovremmo comunque entro alle 14 chiudere l'operazione, anche una mezz'oretta prima alle 13.30 chiudiamo l'operazione, 13.3014 chiudiamo l'operazione, tanto i dati saranno le 14.30. Mentre sul dollaro yen un'operazione di sell limit con un entry a 104,71 che ancora non era stato toccato, uno stop a 105,11 e un target, il primo target a 104,31 poi eventualmente monitorare la posizione sino a 104 e 103,80. Inoltre secondo me bisognerebbe seguire questi altri cross, a parte il dollaro yen e il dollaro canadese per i quali è già stato scattato un segnale, quindi le operazioni sono quelle che ho fatto vedere prima, per gli altri cross GBP-AUD, GBP-CHF, GBP-NZD, NZDCHF, io mi sto orientando per delle operazioni in buy, quindi delle operazioni long, anche in questo caso aspettiamo sul grafico a 4 ore che venga riconfermata una tendenza rialzista e che quindi venga riconfermato il minimo, dopodiché sui cross relativi alla sterlina si può scendere di time frame sull'H1 in maniera tale da avere questo target dei 40 pips fatidici che tra l'altro sono anche importanti perché insomma ci permettono di assorbire meglio lo spread che ovviamente viene invece applicato dal broker, tenendo conto che ovviamente i cross, che c'è i conti che hanno uno spread variabile, hanno sicuramente uno spread più contenuto rispetto magari a quelli con lo spread fisso, però comunque i 40 pips rendono almeno agevole anche un'operatività e rendono più remunerativa l'operatività. Riguardo al dollaro neozelandese NZDCHF, in realtà io avevo avuto già un segnale questa mattina con un'operazione in buy, però non l'ho tradato perché ci sono i dati alle 11 quindi insomma sul franco e quindi potrebbe essere sporcata l'analisi grafica, quindi è probabile anche che su questo cross avendo ormai fatto il segnale i dati possano sporcare la price action e quindi è possibile che il segnale poi alla fine non si avrà nell'arco della giornata, comunque monitorate. Mentre per quanto riguarda i cross invece da tenere lontano oggi non ce n'è nessuno in particolare, quindi via libera per così dire. Bene, a questo punto prima di iniziare vorrei fare una piccola panoramica sul sito Trading Room Roma per sottolineare un apportamento importante, a parte qui il daily, l'aggiornamento sul mercato valutario che è stato pubblicato questa mattina presto, quindi riguardo al 22 giugno sull'analisi dei principali cross in maniera più dettagliata, vi anche sottolino il collegamento con class CNBC oggi alle 13, interverrà Edoardo Liuni, uno dei responsabili della Trading Room Roma per fare il punto in diretta, il punto sulla situazione dei mercati in generale. Bene, quindi credo di aver detto tutto, passiamo ora ai grafici, vediamo se vedo che ci sono delle domande. Allora, vediamo Alessandro, Alessandro Paticchio, perché ce ne sono tanti Alessandro collegati, mi dice sono in posizione con AUDCHF, sei in posizione in buy? Allora, AUDCHF in buy dovrebbe essere interessante, io non avevo avuto una conferma effettivamente di Massimo, però se vogliamo vederla, allora eccolo qua, apriamo il grafico, vediamolo subito. Allora, se qui ti ha dato, ha avuto la conferma di minimo Alessandro, perché io non avevo visto una conferma di minimo su AUDCHF, comunque se ti ha dato una conferma di minimo, la tendenza anche qua, vediamo sul giornaliero, sicuramente confermata infatti rialzista, quindi sì, tendenza rialzista, vediamo, seguiamo il trend, ok, sì, potrebbe tra l'altro forse anche il minimo, sei attento che qui c'è questo spike, quindi comunque considera come minimo questo, 0,7144, quindi stop 0,7140, vedo che sei un pochino lontano attualmente, ancora non credo che abbia fatto granché, comunque se sei riuscito ad entrare, adesso non so, probabilmente sei entrato un pochino in anticipo, magari sei preso un buon livello, oppure sei ad un livello un po' alto, comunque la tendenza è long, attenzione ai livelli, perché non è solo importante individuare la tendenza, ma anche il punto di ingresso, perché purtroppo qui c'è questo spike che ti allunga un pochino lo stop, quindi vedo che per poter intervenire a questo punto bisognerebbe, se questo è un 0,7144, uno stop almeno di mettere 0,7140, dovresti entrare a 0,7180, quindi forse siamo sui livelli, sì, 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 si potrebbe fare, se ha confermato il minimo su questo cross, si potrebbe anche fare, attualmente sì. Bene, vediamo i segnali, quindi partiamo dai segnali, per quanto riguarda USDCAD, attualmente siamo a 1,2788, il livello di ingresso era 1,2792, non l'abbiamo preso, quindi comunque attualmente ancora per poco, se nella prossima magari oretta il cross riprende il segnale, riprende il valore, potete entrare, vedo che ormai sta anche un pochino salendo, quindi può anche darsi che si possa ancora prendere come segnale, uno stop sopra il massimo, anche qui un primo target fisso 1,2752, anche perché qui ricordiamo che dobbiamo chiudere l'operazione entro le 14, perché ci sono i dati sul mercato canadese. Anche qui la tendenza rimane ribassista, è stata confermata ribassista anche sul grafico 4 orario, scusatemi, scusate, giornaliero, anche se qui siamo in una leggera fase di consolidamento, lievemente ribassista, per cui insomma potrebbe, in realtà si tratterebbe più che altro di una sorta di trading range, ecco perché è anche il riferimento, il target abbastanza stretto e non ampio. La lettura rimane ancora ribassista, attenzione se il cross dovesse superare 1,2829, comunque non entriamo long, per entrare long perché potrebbe ancora eventualmente segnare un minimo, un massimo, magari al di sotto della trendline nera, che questa l'ho lasciata proprio perché è importante da monitorare e quindi si potrebbe ancora rientrare poi a ribasso. Quindi il livello qui di 1,29 è un livello importante, bisogna verificare come ci arriva, perché una rottura su questo livello con un eventuale pullback così, nel rispetto della trendline potrebbe, della trendline nera, potrebbe ancora, potrebbe insomma spingere una salita, quindi un movimento rialzo sino al massimo precedente. Se invece il cross rompe questo canale e ancora rimane all'interno qui, al di sotto della trendline, comunque in questa fase noi non entriamo, non operiamo, a meno che il cross poi non rientra sotto 1,2830, allora intanto si può puntare al ribasso sino a 1,2760 e poi magari riseguire il movimento ribassista. Per ora io seguo un'operazione così veloce, puntando sulla parte bassa del canale attualmente, questo era il senso del segnale odierno. Per quanto riguarda il dollaro Yen siamo in una situazione analoga, anche qui siamo in una situazione di congestione, sebbene la tendenza sia complessivamente ribassista, anche sul grafico giornaliero non abbiamo avuto nessuna conferma da parte degli indicatori di fine del movimento ribassista, nessuna conferma di minimo, il cross è rimasto ancora al di sotto della media a 9 periodi, quindi ancora la tendenza rimane sostanzialmente a ribasso. Ecco perché nell'ambito di una operatività in trading range io preferisco un trading range però short, quindi noi abbiamo avuto qui una conferma di massimo, i prezzi sono al di sotto della media a 9 e a 20 periodi, quindi ci potrebbero essere i presupposti per un ritorno intanto sino alla parte bassa del canale, quindi non puntiamo anche qui su grandi eventualmente salite, grandi scusatemi discese anche perché non è il momento oggi di rimanere in posizione oltre la giornata, quindi le operazioni devono essere brevi, si devono chiudere intraday e dobbiamo avere il conto pulito prima dell'esito del referendum. Vediamo se Alessandro alle 10.15 con uno stop a 071, stiamo parlando sempre di audice HF, ok bene sì sì sì, perfetto sì. Comportamento, allora Antonio mi chiede il comportamento per domani notte, allora il comportamento del trader professionale per domani notte non è quello di andare a scommettere sull'esito del referendum e soprattutto non solo sull'esito ma anche sull'effetto, sul potenziale effetto, noi infatti potremmo in realtà valutare dei livelli di attenzione sui vari cross e far partire delle tendenze, però si potrebbero verificare domani dei gap o comunque delle oscillazioni forti dovute alla speculazione che non fanno partire delle vere e proprie tendenze, quindi rischiamo di trovarci magari con degli stop che saltano perché appunto si apre in gap molto ampio e quindi andiamo a rischiare il nostro capitale per una semplice scommessa. Noi preferiamo aspettare non solo la chiusura di domani come avevo detto ma anche la chiusura semestrale perché siamo a ridosso di una chiusura importante, chiusura non solo di trimestre ma anche di semestre, quindi prima se dobbiamo entrare per delle operazioni multi day è necessario attendere queste chiusure ed individuare sulla base di queste chiusure poi il nuovo livello di ingresso con uno stop compatibile al nostro capitale e ad un adeguato rapporto rischio rendimento nel lungo periodo. In intra day assolutamente non si può operare perché i stop saltano, cioè 40 pip, 80 pip, 100 pip saltano tranquillamente, parliamo domani di movimenti che possono anche riguardare 1000 pip, quindi insomma non operiamo, siamo tranquilli e verifichiamo dopo il comportamento. Magari nella giornata di domani, dopo la giornata di domani si potrebbe iniziare ad operare in maniera intra day, verifichiamo che cosa, come si stanno movimentando, muovendo i cross, però sicuramente io domani rimango assolutamente fuori dal mercato, anche intra day, lo valutiamo, lo studiamo e definiamo dei livelli però non operiamo, sicuramente non operiamo. Vediamo l'euro dollaro, ok, allora l'euro dollaro, allora sull'euro dollaro siamo in una situazione un pochino proprio particolare, siamo a ridosso, allora questa tendenza è stata messa in discussione dal minimo di ieri, allora la tendenza giornaliera quindi dovrebbe essere questa qua, la nuova tendenza, qui il cross ha confermato un nuovo minimo, l'ha confermato oggi qui alle 10, quindi ha ripreso una fase di salita, ma siamo proprio su dei livelli limite, perché la tendenza giornaliera è ancora rialzista, però abbiamo visto che ha messo in discussione la trendline precedente e quindi ha segnato un minimo che è andato a violare il minimo precedente, quindi in realtà si potrebbe già iniziare a configurare un primo movimento ribassista, un pochettino sporco però comunque potrebbe ancora, si potrebbe ancora formare sulla base, vedremo poi il prossimo massimo come andrà ad operare. In realtà questo livello, se noi ci mettiamo qui una linea in orizzontale, livello di 1, 12, 50, potrebbe ancora essere un punto per delle ripartenze, è ovvio che qui noi non andiamo però al rialzo, sebbene noi abbiamo anche una tendenza rialzista sul grafico giornaliero, perché abbiamo questa situazione di indecisione del cross che ha violato il minimo precedente, è al di sotto delle medie, anche della media 200 periodi, è rientrato all'interno del canale qui di congestione, quindi non è rimasto al di sopra e quindi fino a che il cross non ritorna sopra 1, 12, 80, 1, 13 se vogliamo e ci dà una nuova conferma di un magari minimo, quindi mi rompe 1, 12, 80, 1, 13, mi dà una nuova conferma di minimo nel rispetto di questa trend line, allora si entra long, ovviamente su scala sempre in tra dei in direzione di 1, 13, 20, 1, 13, 70, però la situazione in cui si trova ora è una situazione cruciale, perché alla fine il cross potrebbe anche, ora è in una fase di salita, potrebbe sentire questa resistenza di 1, 12, 80, quindi riconfermare magari un massimo qui sotto, rompere nuovamente la trend line e quindi in questo caso noi avremmo un andamento, una tendenza che potrebbe essere confermata ribassista invece, che però prima di tradare io aspetterei che il cross tornasse al di sotto di 1, 12, 15, quindi io inizierei a tradare la tendenza ribassista da qui con la rottura di 1, 12, 15, dietro ovviamente, poiché si tratta di operazioni intraday, dietro ovviamente una conferma di un nuovo massimo che mi permette di avvicinare lo stop, perché sicuramente non potrei metterlo qua sopra, altrimenti non avrei uno spazio adeguato di target successivamente, quindi non avrei un rapporto rischio rendimento interessante. Quindi andrei ad aspettare la rottura di 1, 12, 15, il pullback eventualmente su questo valore, ma anche così, insomma anche al di sotto comunque, quantomeno sotto la trend line questa blu, quindi comunque così, andrei comunque a seguire al ribasso l'operazione, dopo però la rottura di 1, 12, 15, quindi la rottura di 1, 12, 15 e poi un pullback anche rientrando così, mi permetterebbe di seguire sino a 1, 11, 50, 1, 11, 30. Mentre per rientrare long, per rientrare long aspetto che il cross mi ritorni sopra, quindi aspetto quest'altra rottura, quindi di 1, 12, 80, 1, 13, quindi che ritorni al di sopra di questo canale, di questa resistenza, mi faccia un successivo minimo magari nel rispetto di questa trend line, perché questo è quello che io sto seguendo e allora poi seguo sino a 1, 13, 20, 1, 13, 70. Quindi attualmente siamo in una fase di valutazione su questo cross per cercare appunto di capire poi, perché attualmente tutto potrebbe succedere in linea di massima, quindi non abbiamo un livello di attendibilità tale da poter spingerci a implementare un'operazione. Potrebbe magari anche appunto continuare nell'operatività in trend range, però non sappiamo se scende direttamente, magari tocca 1, 12, 15 e ci rimbalza oppure insomma tutto può fare a questo punto e quindi aspettiamo di avere delle successive conferme. Guardiamo la sterlina, ingrandiamo un pochino, allora la sterlina sul grafico giornaliero ha confermato una tendenza al rialzo, quindi ha riconfermato ancora quindi una fase di salita, solo che sul grafico a 4 ore siamo in una fase di ritracciamento, quindi durante la quale il cross dovrebbe segnare il nuovo minimo per poter poi tracciare se vogliamo la nuova tendenza rialzista. Allora se il minimo dovesse essere segnato qui al di sopra di 1,44 e 80, 1,44 e 50, allora sarebbe riconfermata la lettura rialzista e si potrebbe andare al rialzo. Anche su questo cross, perché la volatilità sul grafico a 4 ore è molto ampia, per contenere uno stop potremmo seguire, una volta avuta la conferma di minimo sul 4 ore, si potrebbe seguire il movimento sul grafico orario e quindi si aspetta una conferma di minimo sul grafico orario per rientrare long. Dovremmo avere queste tre tendenze dalla nostra parte, quella del giornaliero, quella del 4 ore e quella sul grafico orario, cosa che ha senso su questo cross perché la volatilità così come su tutte le coppie che vedono la sterlina, che hanno la sterlina insieme alle altre valute, si può scendere di time frame, andare sull'orario con la stessa efficacia e perché abbiamo un ATR che attualmente è elevato, è circa di 40 pips, quindi si può fare. Però quindi attualmente non entriamo al ribasso perché siamo in una fase di correzione che non sappiamo dove si fermerà, tanto per cominciare e quindi la tendenza tra l'altro giornaliera è ancora rialzo, quindi saremo in controtendenza e noi non consigliamo di entrare. Se il cross dovesse però confermare un minimo al di sotto di 1,4480, 1,4450 o magari al di sotto qui della media 200 periodi per essere un pochino più conservativi, quindi a 1,4430, io non entrerei al rialzo e rimarrei diciamo in quest'area tra 1,4460 e 1,4330 rimarrei fuori per cercare di avere, ricercherei insomma delle ulteriori conferme, perché se rimane all'interno di quest'area potrebbe iniziare a mettermi in discussione il movimento rialzista e quindi dovremmo aspettare un nuovo massimo, vediamo se il nuovo massimo sarà anche in questo caso magari segnato al di sotto di questo livello di 1,4470, quindi al di sotto di questa poi che sarà la nuova resistenza e magari il cross rientra nel canale ribassista, allora così io rientro, avrò una confidenza anche se siamo magari sul secondo massimo, non sul terzo, avrò una maggiore probabilità che il cross possa riprendere il movimento a ribasso, tra l'altro vediamo che qui siamo anche a ridosso del 61,8 di Fibonacci, quindi abbiamo una coincidenza importante tra livelli statici rappresentati dal supporto di 1,43, il ritracciamento del 61,8 di Fibonacci e anche il livello dinamico rappresentato dalla trend line, quindi la ripresa del movimento ribassista, questi elementi mi danno una maggiore attendibilità magari dell'operazione, quindi rientrerei in questo caso a ribasso sino a 1,41, 1,42, 1,41,50, un'eventuale ulteriore rottura della parte bassa del canale potrebbe spingere i prezzi sino a 1,40, sino al minimo precedente, ma questo poi qui noi avremo anche un'ulteriore conferma, una rottura di 1,43 è probabile che mi riporti il grafico giornaliero anche in una fase ribassista, perché sul grafico giornaliero gli indicatori che sono mossi dai prezzi e non viceversa, gli indicatori ci daranno anche una conferma di massimo magari relativo segnato sul grafico giornaliero e quindi avremo un'ulteriore conferma di una ripresa del movimento ribassista. Se invece il cross attualmente nella fase in cui si trova mi segna un massimo al di sopra di 1,44,80 potrebbe essere un'ulteriore, un'occasione di ingresso al rialzo puntando sino al ritorno sui massimi e quindi qui intanto su 1,45,90 1,46, 1,46,50 quelli potrebbero essere i target. Ritracceremmo poi il nuovo canale rialzista ovviamente sulla base del nuovo minimo che per ora non esiste, quindi il canale puramente teorico se noi indichiamo qui il minimo, ritracciamo il nuovo canale, individuiamo il nuovo canale di target e quindi rientriamo al rialzo. Quindi dunque attendiamo ovviamente anche questo avendo accortezza di seguire i movimenti sul grafico orario dopo che abbiamo avuto però le dovute conferme sul grafico a 4 ore. Allora, tutti questi ragionamenti non sono da rivedere domani notte. Allora, Antonio mi chiede, tutti questi ragionamenti non sono da rivedere domani notte? Allora, praticamente noi li guardiamo non soltanto domani notte, li guardiamo stasera, li guardiamo domani mattina alle 10, li guarderemo domani notte, ma questi ragionamenti adesso hanno una semplice valenza intraday, quindi questi già valgono per oggi, per l'operatività di oggi, queste considerazioni. Già domani mattina alle 10 già si dovranno fare delle nuove considerazioni, ma questo vale per tutti i giorni, non soltanto per il fatto che c'è il referendum, ma proprio per tutti i giorni. Domani tra l'altro è una giornata in cui proprio intraday è meglio non lavorare, perché magari delle piccole indiscrezioni in merito all'esito del referendum portano delle oscillazioni incontrollabili, quindi domani magari non lavoriamo proprio come a livello intraday. Questi livelli sono livelli che valgono per oggi su scala intraday, quindi una volta chiusa la giornata già sono dei ragionamenti che vanno rivisti, che vanno riapprofonditi, li riapprofondiremo quindi domani. Poi su scala multiday proprio, dobbiamo aspettare la fine del referendum, perché non vi sto dando dei livelli su scala multiday, i livelli su scala multiday sono da rivedere sul grafico giornaliero, se noi vogliamo vedere la sterlina sul grafico giornaliero, andiamo a verificare che i livelli di attenzione sarebbero come vedete, se noi vogliamo entrare, inseriamo un rettangolo giusto per rendere meglio magari l'idea, se noi vogliamo vedere, i livelli di attenzione per la sterlina sul grafico multiday sarebbero 1,40 per delle operazioni a breakout al ribasso e 1,46,70, 1,47 per delle operazioni a rialzo. Però questi livelli saranno sicuramente sporcati e tra l'altro magari si apre in gap ci prende uno stop, quindi non sono assolutamente da prendere attualmente in considerazione, vista la situazione particolare tra l'altro in cui ci troviamo. Quindi noi cerchiamo di attualmente di dare, sto cercando attualmente di dare solo delle indicazioni che possono servire per un'operatività intraday, con i dovuti filtri, perché ci troviamo tra l'altro in una situazione particolare di volatilità e di confusione, quindi sono dei filtri che vanno presi in considerazione per l'operatività di oggi. Ecco perché poi noi facciamo queste sessioni quotidianamente, anzi addirittura Trading Room Roma le fa tre volte al giorno, alle 10, alle 14, e alle 21. Allora, Vincenzo mi chiede, il trade dollaro yen ancora deve entrare? Allora, dollaro yen, sì sì, infatti ancora siamo, non ha ancora toccato il livello di ingresso, siamo a 104,58, noi avevamo dato 104,71, sì sì, per quanto riguarda il dollaro yen è un'operazione che io la terrei ancora fino alle 12,12 e mezza, se non prende l'ordine ovviamente poi vuol dire che il movimento è già iniziato, ovviamente sempre che non vada a toccare già il target, però per me è importante avere un livello di ingresso di 104,70 perché mi permette di mantenere un rapporto rischio rendimento, altrimenti dovrei rischiare di più e quindi viene contro la strategia e quindi non opero, ecco perché per me è importante fissare un livello di ingresso, quindi attualmente ancora se arriva, se tocca il 104,70 si può entrare. Vediamo un dollaro franco, il dollaro franco anche qui è in una fase di congestione che tra l'altro però è diventata ancora più stretta rispetto a quella precedente, vediamo che il costo si sta muovendo tra 0,9620 e 0,9580, quindi siamo proprio in 50 pips, quindi questo per me già questo rende difficile il trading perché abbiamo poco margine, quindi è difficile nel senso che io non lo prendo in considerazione, per me non è interessante. Tra l'altro la tendenza sul dollaro franco è una tendenza a ribasso, quindi se fosse stata magari sul grafico giornaliero, se ci fosse stata una tendenza a rialzo, magari avremmo potuto cercare di prendere una rottura di 0,9620 sino a 0,9680, 0,9690, potrebbe essere un pochettino più ampio come target, però non è così perché la tendenza giornaliera è a ribasso, quindi sono da preferire operazioni a ribasso, infatti vediamo che qua da 0,9620 le operazioni sino a 0,9650 stanno andando tutte a target, quindi si stanno movimentando qua dentro, però appena si hanno delle conferme i target diventano proprio stretti, quindi io evito di operare. Anche qui aspettiamo ovviamente l'uscita dei prezzi da questo canale di congestione, quindi al di sopra di 0,9690 o sotto 0,9570, ma anche in questo caso sarà difficile, oggi siamo già alle 12, poi ci sono alle 14, ci sono i dati anche sul dollaro, quindi su questo cross, per oggi credo che su questo cross sia impossibile andare a prevedere delle operazioni interessanti, ma ben venga voglio dire fare questi filtri, perché ci sono tantissimi trader che invece stanno operando e stanno prendendo dei bruttissimi schiaffoni in questo periodo, quindi meglio filtrare piuttosto che magari assumersi dei rischi troppo elevati. Poi guardiamo AUDUSD, allora su AUDUSD noi abbiamo una tendenza al rialzo, il cross ha riconfermato un, no non ha ancora confermato un minimo, siamo in una fase in cui graficamente potrebbe sembrare che abbia fatto un minimo, però gli indicatori non l'hanno ancora confermato. Anche qui non siamo entrati perché tra l'altro poi abbiamo i dati sul dollaro nel pomeriggio, quindi insomma se non ha confermato questa mattina diventa tardi, infatti il cross sta già procedendo, quindi siamo già in dirittura di target. La tendenza rimane ancora confermata a rialzista, sta seguendo il canale precedente, quindi tutta la lettura rimane invariata, a meno che il cross non dovesse rompere intanto questa trendline, questo sarebbe già un primo segnale di indecisione, la rottura lo porterebbe a violare il minimo che starebbe qui segnando a ridosso della media a 20 periodi, quindi potrebbe anticipare un movimento veloce a ribasso intanto sino alla media a 200 periodi, quindi sino a 0,7380. In questo caso non rientriamo a ribasso, la tendenza rimane ancora positiva fino a che il cross appunto non rompe 0,7370. Anche qui una rottura di 0,7370 potrebbe cambiarci la visione rialzista del cross anche sul grafico giornaliero e quindi da 0,7370 in poi potremmo seguire intanto delle operazioni a ribasso sino al 0,7330 o 0,7320 o anche eventualmente poi la rottura sino a 0,7280. Però qui con la tendenza giornaliera ribassista mi sentirei più confidente anche nel seguire delle operazioni a ribasso anche in trading range, così come sarebbe poi perché il cross ritornerebbe nel canale diciamo di congestione. Mentre per seguire delle operazioni in trend per me è importante che tenga questa trend line, un qualsiasi segnale di indecisione, di incertezza su questa trend line mi spingerebbe a frenare la mia operatività long e ad attendere delle successive conferme. Che cross ancora ci manca? Il dollaro canadese e poi abbiamo completato. Allora, il dollaro canadese sul quale abbiamo implementato un'operazione che per noi era entrata a 1,2792, quindi comunque qui vediamo che il cross ha quasi raggiunto il target, quindi a questo punto siamo a 1,2784, non cancellate anche l'ordine, non tenetelo più in macchina. Anche qui, questo l'abbiamo visto già all'inizio, l'abbiamo già spiegato, era un'operazione comunque in trading range, però tenendo conto della tendenza ribassista, quindi questo l'abbiamo anche visto. Bene, allora a questo punto credo di aver guardato tutto, bene, rinnovo quindi l'appuntamento per domani mattina, daremo una piccola analisi, intanto vedremo, faremo delle piccole valutazioni, ma puramente teoriche, perché domani regola intanto secondo me è quella di non operare sul nemmeno intraday. Aspettiamo l'esito del referendum e poi facciamo le dovute osservazioni. Grazie e buona giornata di trading a tutti.